gentili ascoltatori ben ritrovati al nostro settimanale peneta oggi ai microfoni massimo in studio con noi c'è anche Alessandro Patro del contratto di fiume possiamo spiegare anche a coloro che ci ascoltano dal Cadore cos'è questo processo del contratto di fiume? Allora ci sono tante definizioni di questo processo partecipativo pubblico a me piace la definizione che ne dà il professor Bastiani che definisce questo processo chi è innanzitutto il professor Bastiani è il coordinatore del tavolo nazionale dei contratti di fiume e definisce il contratto di fiume come un processo di democrazia diretta finalizzato al miglioramento delle componenti ambientali e anche socio economiche di un fiume del suo territorio ed è un processo aperto inclusivo partecipato e deliberativo perché ogni processo di democrazia diretta come insegna Norberto Bobbio si conclude con un lato deliberativo dialogicamente diciamo così ecco progressivo crescente ma deliberativo quindi voi vedete un corso d'acqua che può essere un canale un fiume un fossato anche un lago credo come portatore di ricchezza sì è non solo un bene comune ma un bene collettivo c'è una responsabilità nella gestione di quel bene e ogni bene comune in questo caso stiamo parlando naturalmente di un bene naturale è un bene e un servizio ecosistemico che naturalmente fornisce appunto un servizio di cui finora forse abbiamo trascurato sicuramente abbiamo trascurato ecco questi servizi o diciamo così ecco che per l'esistenza stessa per la sussistenza della nostra comunità il fiume è uno degli elementi ecosistemici che concorre che vive e concorre alla formazione alla tutela della biodiversità e quindi poi fornisce dei servizi come il cibo l'aria l'acqua l'impollinazione ecco gli ecosistemi che devono essere valutati con maggiore come direi con maggiore attenzione sì ecco ecco quindi l'abitante che praticamente è frontista al fossato al canale o al fiume ecco quale compito dovrebbe avere venendo alla sostanza concretamente uno cosa dovrebbe fare all'interno di questa di questo cdf beh sono tantissimi soggetti che partecipano a questo processo decisionale pubblico gli enti che hanno competenza responsabilità nella gestione del bene le associazioni anche cittadini naturalmente i cittadini che frequentano il fiume come i pescatori gli agricoltori i frontisti dovrebbero essere a maggior ragione coinvolti nella gestione del bene quindi comunicare con gli enti con le istituzioni cioè quando c'è qualcosa che non va ad esempio non so l'acqua diventa rossa per un versamento per un inquinamento ad esempio a monte ecco il cittadino deve preoccuparsi e avvisare su delle autorità competenti così anche questo però il contratto di fiume è un processo di crescita culturale che passa attraverso delle fasi strategiche e fondamentali importanti cioè una fase iniziale in cui si condividono i saperi le conoscenze e quindi si individuano le criticità e le potenzialità del territorio una fase in cui si condividono gli scenari la visione sul futuro e una terza fase in cui dalla condivisione dei scenari si passa alla condivisione di un piano di azioni e quindi poi le azioni arrivano dopo un processo lungo potremmo dire due o tre anni si arriva a definire un piano di azioni che sono concrete sono fattibili e si possono realizzare sono finanziate si possono realizzare in due o tre anni quindi anche la vigilanza è una delle attività e quindi il controllo della parte della comunità è una delle attività che possono essere condivise e che e quindi poi realizzate attraverso il piano delle azioni l'europa un ruolo su questo l'europa è un faro di civiltà su questi processi da almeno 30 anni l'europa indica un percorso che pone come primo obiettivo la sostenibilità che può essere declinata nei cinque obiettivi ad esempio di europa 2020 che sono istruzioni innovazione inclusione occupazione clima energia e indica anche come arrivare a questi obiettivi sostenibilità cioè attraverso dei processi decisionali pubblici come quelli dei contratti di fiume si sta un po' espandendo a marchio di lopardo in italia questo contratto di fiume si in vento in particolare da due anni ormai diventato una costante ecco nel dibattito pubblico e negli ambiti negli ambienti ambientali come dire sì nell'ambito ecco di chi si occupa di ambiente ecco però naturalmente attendiamo che abbia un riconoscimento giuridico che venga che c'è bisogno anche di un forse anche di un percorso di educazione civica e ed etica anche da parte degli amministratori che purtroppo ho constatato considerano questi strumenti come una minaccia invece che come un'opportunità è una manifestazione di creatività e di libertà per cui quando si attivano processi di democrazia diretta come questi le amminista di amministratori o comunque le autorità che non a caso si chiama autorità diciamo così ecco avvertono questi processi quasi come una come dire una diminuzione ecco una limitazione di quelle che sono i loro potere e quindi lo temono invece di di sfruttare le opportunità quindi diciamo come dire il mare si increspa un po' il mare si diciamo ci sono diversi conflitti che devono essere tramutati in un rapporto invece di dialettica ecco ecco per finire ci sono anche delle associazioni che interagiscono con il contratto di fiume comitati ho visto ecco se vuoi magari non so a fare accenno a questo e poi andiamo in sigla finale beh sì tutte le associazioni danno un contributo importante proprio perché attraverso questi strumenti qua si valorizzano le conoscenze le esperienze i saperi che sono diffusi nel territorio e proprio sono quelle risorse che purtroppo non scorrono all'interno degli alvi istituzionali ma di fuori dei alvi quindi sono risorse che devono essere assolutamente coinvolti nel processo benissimo grazie dunque all'ingegner Alessandro Patro per queste importanti considerazioni per noi motivo naturalmente di approfondimento termina qui il nostro settimanale pianeta oggi da Massimo Bonella l'augurio di una buona giornata e buon proseguimento con le nostre programmazioni musicali grazie a tutti